Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Dormiamo, così vi faccio vedere che cosa ho realizzato e che cosa ho scoperto sul gioco in modo da potervi catechizzare, come si possa dire, per quanto riguarda IdaNear. Allora, intanto ho finito la casa, ho imparato anche a impilare bene le cose in modo da poterne portare il più possibile. Ho anche una mappa che mi è rimasta ferma in questa posizione e mi è comodissima e mi è utile per muovermi in giro. Allora, in sintesi che cosa ho fatto? Ho migliorato la mia catena di produzione che adesso voglio spegnere perché non è ottimizzata. Vedete che qui c'è la pompa che è in un materiale più bello, più prezioso. Infatti c'è un po' di perdita qui perché non è fatta dello stesso materiale. Questa ha la peculiarità di portare una pressione molto più alta, forse il 250%. Quindi la perdita che poi va a fare comunque porta ad avere un risultato migliore rispetto a usare la pompa classica. Ma la pompa classica ha, come vedete, quattro anelli attaccati. Che cosa sono? A questi anelli potete attaccare questi strumenti qui ed è uno dei motivi per cui oggi voglio fare questo video. Intanto, cosa succede? L'acqua va, alimenta, viene potenziata qui, quindi la pressione dell'acqua qui è abbastanza elevata. La pompa, la trivella, trivella. Qui arriva dell'acqua che ha pressione 180. Calcolate che una pompa normale inizia da 100 e perde il 3% ogni blocco. Quindi 180 è notevole, la potenzia e alimenta i rulli che adesso vanno molto più veloci. Sempre dalla stessa pompa viene alimentata appunto la trivella. La trivella scava, butta il materiale, il materiale sale. Il materiale sale e va allo sminuzzatore. Lo sminuzzatore butta fuori il materiale, diciamo, da raffinare. Se è oro finisce avanti e viene buttato direttamente nella fornace. Se non è oro viene buttato di qua, a questo punto viene filtrato nuovamente. Se è ferro va qui, se è tutt'altro va qui. Qui viene di conseguenza, se è una gemma, viene raffinata da queste due rotelle qui. E alla fine viene buttato qui. Qui, se è una gemma, finisce direttamente qui. Se non è una gemma, cioè se è uno di questi, diciamo, che serve per alimentare, per creare i lingotti che alimentano, diciamo, i potenziatori dei tubi, finisce qui e va a fondersi. Le gemme e gli altri materiali, perché ho dimenticato di dirvi che qui c'è il clotium. Il clotium è preziosissimo e ci fa... cioè è l'elemento di cui sono composti questi tubi, che costano tantissimo. E servono, perché al momento non c'è un'applicazione per quei materiali sull'incudine. Però, adesso vi faccio vedere. Intanto qua potete fondere direttamente, man mano, i vari lingotti. Io adesso ho preso il ferro. Allora, calcolate una cosa. Potete farlo riempire quanto volete, perché il lingotto non ha un peso massimo. Adesso io ho comprato questa cassaforte, vedete ho preso questo. Questo ha una pesantezza di... Beh, vedete, 45. Io adesso prendo questo. Lo butto qui dentro. E adesso ho fatto un altro lingotto, che ha un peso di 62. Potrei andare avanti così e portarlo a mezzo chilo, insomma, tutto quello che volete. Adesso, con questo che è 62, intanto vedete i soldi che ho fatto. 3.700, 1.800, potete dividerli con la sega. Quindi con la sega potete dividerli a metà e quindi creare, smizzare, diciamo, l'importo. Che cosa faccio io con questo? Questo qui me lo carico sul camioncino e vado in una delle meccaniche che trovo più interessanti di questo gioco. Andiamo a Moria. C'è una location, adesso ve la faccio vedere. Intanto qua potete mettere i vostri utensili da parte. Qua c'è tutta la roba che ho comprato ma non ho mai usato. Il bancale vi serve per tenerli tutti attaccati e trasportarli meglio. Qua ci sono dei rulli, insomma, che poi magari approfondirò. La cassaforte, appunto, l'ho comprata a Moria e ci potete mettere le cose. Non serve niente. Serve per metterli via senza lasciarli in giro, insomma. Dà un tocco di lore. Io ho spento perché poi ogni tanto si danneggiano e con le chiavi inglesi dovete ripararli. Adesso io riattivo e faccio ricominciare la produzione in modo che, sperando che non si rompa nulla perché generalmente si rompono i filtri. I filtri poi, filtrando l'acqua, si danneggia meno la trivella piuttosto che altre cose. I filtri stessi si rompono, quindi bisogna fare attenzione. Intanto stiamo producendo. Vedete come va veloce. Vedete che qua l'oro viene mandato qui. Voi l'oro lo potete, diciamo, craftare anche dopo solo una pepita, ma vi verrà una pepita piccolissima. Vedete, io adesso ho preso questa. Ho restato questo, poi vabbè me la rimetto dentro. E così mi faccio il lingotto grande. Al massimo è meglio farlo grande e poi smerzzarlo dopo con la sega. Comunque, quello che facciamo adesso è andare. Ho depositato il lingotto dietro perché il lingotto è molto importante. Anche quello di Clotium. Però vi porto a Moria. Moria è un complesso all'interno della montagna che vi consente di comprare un terreno sul fondo e iniziare un impianto pure lì. C'è l'acqua. In ogni impianto che potete comprare in gioco oh Dio potete acquistare l'appezzamento di terra e iniziare a scavare. Non costa tanto. Questo non so se poi è una cosa un limite attuale del gioco ma ho visto che i giacimenti che costano i più costano 7000. Questo qui in fondo, quello che vedete là forse costa 1200. Quello là che si vede proprio in fondo. 1200 non è tantissimo. Quindi per quello che ho adesso per quello che riesco a produrre adesso mi chiede sì tempo ma sforzo minimo. Quindi onestamente non ci vedo questo grande bisogno di automatizzare ulteriormente quello che ho fatto ma probabilmente è un mio limite perché probabilmente non so ancora molto del gioco. Qua avete la possibilità e non so ancora come funzioni di depositare delle risorse che vengono portate di sotto. Di sotto che vi faccio vedere subito io adesso ho mandato giù un lingotto prima. Qua c'è un ascensore che scende adesso aspettiamo e ci porta all'inizio di Moria. Moria è questa. Qua vabbè ci sono le scale per scendere là in fondo c'è l'incudine ed è il fulcro di questa miniera. In fondo avete l'appezzamento dove potete scavare ed è esattamente sotto l'incudine enorme. Sotto lì c'è l'appezzamento. Mentre di qua adesso aspettate che deposito questo perché dopo parleremo anche di questo. Vi faccio vedere il negozio. All'interno c'è un negozio l'hai chiuso. C'è un negozio che vende cose che non vengono vendute altrove nel mondo. Inoltre vi ricordo anche che c'è un'ampia parte dedicata all'agricoltura con relative macchine che non ho ancora visto non vi ho ancora fatto vedere io le ho viste ma insomma poi se manifesterete interesse in questo video farò un ulteriore video dove ne parlerò. Queste sono macchine classiche il tavolo piuttosto che i rulli trasportatori ma avete lo zoccolo dove potete mettere la vostra numero uno la monetina da cui inizio tutto insomma le casseforti avete queste cose qui vedete che questi sono divisi ad esempio il booster quello che vi ho fatto vedere che ho attaccato alla pompa prima la potete avere di clotium o di ferro e vedete che c'è un numerino sotto T1 e T2 e poi 60 e 60 sono i grammi da quello che ho capito di lingotti che dovete fare che dovete portare all'incudine per poter craftare questo oggetto e poterlo usare l'ho comprato una volta il progetto vi rimane perché è una sorta di statuetta che ha un valore dimostrativo per l'incudine enorme che poi ve lo produrrà qua avete anche altri tritatori in clotium e in metallo quelli che abbiamo che abbiamo là in base di ferro e abbiamo anche la trivella in ferro e in clotium anche qui con efficienza migliorata e per il resto ci sono cose che si trovano in altri negozi come i tubi guardate quanto costano comunque quasi sui 300 la pompa costa 600 per il resto sono tutte cose che trovate anche negli altri negozi qua avevo depositato 5700 quindi ho qua parecchi soldi da investire comunque vi porto giù giù ormai siamo già a livello della trivella qua si scende verso il campo ma ci possiamo saltare dopo e la cosa che vi voglio far vedere è appunto come funziona allora praticamente ne abbiamo lasciato il lingotto qua devo capire dove eventualmente mi portano gli oggetti perché vedete che qua potete rimandare gli oggetti al camion se voi mettete sotto il camion vicino al rullo che c'è di sopra vi porta gli oggetti di sopra non so dove mi riscarica qui in realtà perché ho mandato giù un lingotto stamattina prima di chiudere il gioco quindi dovrò informarmi comunque intanto vedete che qua sopra qua se ci passo sopra finisco di sotto quindi al momento allora vedete che qua ho messo questo che è il lo stampino del potenziamento per la pompa dell'acqua 60 di ferro quindi io prendo questo lo butto nel calderone diventa liquido e poi vado praticamente il liquido viene mandato all'interno e il pezzo viene stampato il resto mi viene restituito non so dove ma credo che non ci sia nulla di resto forse no eccolo qua c'è un lingotto piccolissimo da forse due grammi quindi va bene questo ce lo portiamo di sopra intanto vedete sotto ci sono varie varie cose possiamo andare giù a vedere vi faccio vedere come funziona tanto non c'è il danno da caduta ma se vinte sulla lava lui salta via arrabbiandosi anche qua sotto c'è il giacimento acquistabile che costa 7200 dove potete mandare di sopra la roba il giacimento scavabile è questo con la possibilità di alimentare e mandare sopra le cose vedete qua vengono buttate giù le cose eccolo qua arrivato qua all'ingotto che avevo scaricato quindi praticamente voi mandate qua le cose e qua le rimandate su direttamente al camion che è comodo nel caso in cui vogliate vendere quindi la zona non so neanche quanto grande ma credetemi ci sono zone molto più grandi acquistabili in gioco dove potete scavare per decine di metri sotto terra e crearvi la vostra miniera al momento io non ho questo stimolo perché non ho voglia di automatizzare tutto e non ho voglia di guadagnare di più perché è quello che guadagno già abbastanza per comprarmi tante cose avete anche la possibilità di acquistare oggetti per per farla a casa avete visto la casa che ho costruito potete fare la casa tipo il cottage o la casa innevata quindi la casa tutta di mattoni intanto io voglio vedere se mi basta questo per farmi sempre quello stampino lì stampino resta vostro per sempre ok quindi perfetto io adesso mando tutto di sopra sperando di non caderci dentro vedete questo va su questo va su e poi butto su anche l'altro il il mio lingottino questo e anche l'altro che sono i due scarti che abbiamo avuto si l'ho buttato su e poi torniamo di sopra anche noi ovviamente lo stampino che ci produce quell'oggetto non serve a portarlo via perché questo è l'unico posto in cui si può produrre comunque ora torniamo su si poi l'ho scoperta per caso questa perché c'era già stato ai tempi quando uscì il gioco non so se era già completamente attiva ma non esplorare più di tanto intanto l'ascensore è su bisogna aspettarla l'unica cosa scomoda bello il sistema dei contrapesi ci ha fatto bene comunque un'ottima cura del gioco inoltre come dicevo ci sono macchinari 4 ruote anche per la coltivazione e c'è tutto un sistema di irrigazione che non vi ho fatto vedere ma che c'è se io mi avessi messo il camion qua sotto sarebbe stato già tutto caricato e fissato direttamente sul cassone in questo caso non è così quindi devo andare a caricare io a mano e inoltre vabbè i lingotti io potrei lasciarli anche lì però questi sono potenziamenti utili vabbè i lingotti non li tocco lì li potrei rimandare di sotto tanto però dovrei fonderli insieme quindi vabbè ce n'è solo uno probabilmente probabilmente me li ha uniti in un lingotto solo ottima cosa ok saliamo e scendiamo vi faccio vedere già che siamo in ballo balliamo vi faccio vedere il villaggio quello dove potete acquistare i gli oggetti per il farming su cui magari potremmo concentrarci in futuro ed è il villaggio è questo praticamente vendono un sacco di roba interessante partendo da questo che è un mezzo che ci serve l'idrocropper che raccoglie i raccolti e ripianta i semi potete alzare e abbassare il rullo potete acquistare tutta la colonna della serra tutti gli elementi per costruire una vostra serra come questa le coltivazioni vengono così vengono venduti anche semi vengono venduti elementi per l'irrigazione il fornello per cucinare il mulino per i semi i semi stessi di pomodoro e carota la paletta per scavare il falcetto per tagliare le piante e qui ci sono altri semi fiori betulla piante semi di acero gli irrigatori i ganci degli irrigatori insomma e il gancio taglia verdure abbiamo l'impilatore di verdure altri semi con pannocchie cipolle broccoli scatola dei semi mini innaffiatorio annaffiatorio cesta di vegetali e vaso ecco questo è giusto completezza per farvi vedere tutto quello che c'era da vedere ora quello che facciamo è andare a vedere effettivamente la modifica ho sbagliato strada ah tra l'altro per fare il pieno questo mondo dove c'è l'acqua come fonte di energia l'acqua qui equivale alla benzina quindi aspettate che devo prendere la scorciatoia basta prendere un secchio d'acqua e riempire quella parte azzurra lì in alto che è l'acqua il serbatorio dell'acqua da qui si torna a casa riprendiamo il ponte ripassiamo dalla zona innevata e torniamo a casa e andiamo subito a piazzare ci sarà da riparare sicuramente qualcosa conosco i miei polli dovremmo andare a mettere questi nuovi potenziatori della pompa anche se non ho idea se funzionano o no perché c'è anche la possibilità che questi potenziatori funzionino solo sulla sulla pompa del loro stesso materiale quindi questo lo dovremmo scoprire ora qui abbiamo il potenziamento qui sta scavando la pressione è di 180 andiamo a metterla qui e vediamo se va andiamo posiziono posizionato vediamo se c'è un potenziamento effettivo o meno no in questo caso no perché probabilmente la pompa che serve è l'altra quindi dovrò fare quel materiale e farmi quelli adesso facciamo un esperimento io smonto questa si ferma tutto ovviamente ruoto collego abbiamo una forza di 97 vado a potenziare 117 ok funziona solo su elementi dello stesso materiale quindi dovrei fare questi di Clotium vabbè metto anche l'altro vediamo mi conviene tenere l'altro come combinazione comunque posso metterne solo uno no devo ruotarli vabbè quindi di qua non funzionano però qui funziona sì quindi vado a accelerare tutti i rulli quello al centro addirittura va ancora più veloce quindi vabbè intanto vediamo che cosa abbiamo prodotto oro bene ferro molto bene e poi questo che è vengono sovrapposti i lingotti e servono da carburante per i potenziatori come questi vedete che dentro emettono luce bene allora credo abbiamo visto tutto ovviamente qui ci saranno i materiali quelli di Clotium che potremmo fondere in un lingotto singolo adesso aspettate un secondo che lo possiamo fondere subito e vedere quanto abbiamo ottenuto sposto un po' di cose credetemi la zona quando io stavo costruendo la casa era fuori di testa se la vostra domanda è ma se ci metti giù qualcos'altro tipo il ferro loro viene buttato fuori quindi non c'è da preoccuparsi allora questo è il lingotto finito di Clotium la barra di Clotium e abbiamo nove non ci facciamo il crafting con questa in compenso se la vendiamo sono 1800 monete crediti insomma quindi questo va in cassaforte diretto cliccando premendo E vengono posizionate all'interno vado a rimettere questo prima che mi butti la roba in giro sono un coglione ma va bene perché vi faccio vedere che c'è questa bellissima funzione in cui vi prende tutto quello che c'è intorno quindi non fa distinzione e li potete mettere all'interno adesso io sollevo butto dentro posso prendere questa roba qui la avvicino e la butto dentro ok pian piano pian piano pian piano la buttiamo dentro ok tempo perso zero rispetto comunque a quello che era ok e la rimetto via vedete che ha risolto il problema ok così andiamo a riprodurre le cose prima fare attenzione che non eccolo lì la produzione si è fermata perché perché si sono arrotti si rompono sempre quelli due parti quindi questo costa 200 e qualcosa quasi 300 vado a riparare e ogni volta che lo utilizziamo diminuisce una delle chiavi inglesi all'interno della borsa adesso vedete ce n'è solo una dopo aver riparato questo si esaurerà ora che è successo qua qua è rimasto un po' fermo perché ovviamente lui lo continuava a depositare ma questo non funzionava poco male perché posso prenderli buttarli io stesso all'interno e vengono emessi i materiali quindi è anche meglio perché ne buttiamo fuori un sacco con questi anche tutti questi ogni singolo che buttiamo giù è un materiale quindi premo spasmodicamente la E e butto fuori un sacco di materiali va bene queste sono le basi di I Don't Here ovviamente a parte il farming resto in attesa di sapere che cosa ne pensate di questo titolo non ha il multiplayer tuttavia potete giocare con lo Steam Play cioè Steam Share insomma come si chiama cioè praticamente se avete un amico non ha il gioco condividete e streammate a lui la vostra partita vi si dividerà lo schermo a metà e giocate lui col pad voi con la tastiera fine giocate schermo condiviso anche se non siete sullo stesso computer quindi questo mi fa presagire che un domani ci sarà anche la coop e sarà un bel gioco secondo me vedete qua è tutto fermo non so perché gli sia finito dentro della terra qua comunque quando avrebbe buttato giù tutto di nuovo quindi io prendo questo e faccio la furbata e glielo mando giù così ha risolto il problema olè perfetto abbiamo un altro lingottozzo qua vedete quanti ce ne sono adesso io vado fondo tutto faccio il lingotto questo è bello pesante infatti pesa 56.200 vedete che bello grande era la dimensione top ma se io vado a prendere oro questo oro questo e oro questo faccio un unico lingotto del peso di 188 3.161 vendendolo solo se lo dovessi raffinare con non so l'anello con una pietra potrebbe valere molto di più fatemi sapere cosa ne pensate di ironia e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.